buonasera a tutte e a tutti e buon natale sto registrando questo video proprio la sera di natale perché ero rimasta indietro con l'apertura del calendario dell'avvento di nix cosmetics e stasera vi faccio vedere rapidamente che cosa contengono gli ultimi giorni del calendario eravamo rimaste alla casellina 17 e dobbiamo aprire insieme tutti gli altri giorni del calendario dell'avvento e lo faccio stasera proprio per chiudere questa diciamo serie di video sul calendario dell'avvento che ho fatto quest'anno allora iniziamo dalla casellina 18 che è questa qua ecco da qui vedete la apro e ed ecco un olio labbra molto idratante vedete vi faccio vedere quindi è anche a questo applicatore carinissimo rosa ma non è rosato è naturale vedete leggermente tonalizzato ma proprio leggermente tonalizzato quindi molto carino ed è super idratante questo è da utilizzare soprattutto nei periodi in cui abbiamo le labbra molto scripolate quindi vogliamo avere delle labbra belle nutrite con appunto il tempo un pochino più freddo e sicuramente questo olio aiuterà moltissimo aiuta anche durante la notte quando volete applicare qualcosa sulle labbra e le volete bene idratate questo è una favola di prodotto 9 eccolo qua al 19 ma bellissimo guardate qua contiene un ombretto stupendo adesso andiamo a vedere subito quindi è un blu viola con dei riflessi violacei che io adoro pazzescamente perché adoro il viola il mio colore preferito e vi faccio vedere no guardate che riflessi questo è bellissimo è stupendo e oh mio dio cioè questo sono sicura che lo indossi no vabbè guardate lo swatch di questo ombretto questo ombretto ha dei riflessi che appunto è a un fondo diciamo violaceo con dei riflessi blu che è una meraviglia questo è meraviglioso poi andiamo alla casellina 20 eccola qua ve la faccio vedere eccoci qua allora contiene una un altro burro labbra colorato butter scotch delicato guardate che bello questo è un bellissimo gloss nude da mettere anche con una matitina questo è davvero molto carino veramente molto 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 tenue ma ci sta tutto con una bella matita marroncina o un po più scura guardate che bello questo mi piace davvero è uno tra i miei gloss più carini che ho trovato secondo me all'interno del calendario troviamo ancora questo è invece una tinta labbra super naturale e questa qui secondo me come tinta labbra è davvero molto particolare e questa è molto bella è un rosa nude un pochino più scuro ma veramente molto soft come colore perfetto per tutti i giorni alla 22 eccola qua quindi vado ad aprirla vediamo questo ombretto dark purple questo è un bellissimo viola da poter abbinare con questo guardate che meraviglia questi due ombretti sono davvero molto molto belli guardate come scrivono poi soprattutto vi faccio vedere lo swatch del ma guardate guardate che bellissimo prugna che ha questo colore davvero molto bello molto mi piace davvero molto questo era al giorno 22 dicembre questo qua bellissimo appunto da abbinare all'altro che avevo trovato prima favoloso poi andiamo alla 23 che eccola qua contiene una meravigliosa 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 tinta labbra scura che io adoro voi sapete che chi mi conosce bene sa che io sono un amante della tinta labbra scura dei rossetti scuri in particolar modo e vi faccio vedere ed è ovviamente da abbinare con questo makeup cioè che ve lo dico a fare guardate quanto è bella questo è un meraviglioso vedete color porpora guardate quanto è bello anche questo è molto approvato ed è super super matte questo calendario diciamo che mi è piaciuto davvero molto perché è fatto proprio in modo in maniera che sia le ombretti che i gloss che le tinte matt sono tra loro tutte molto combinate e in sequenza perfetta il giorno 24 dicembre e termina con vediamo questa che è un burro labbra sempre ma sui toni del marrone quindi un pochino più marrone diciamo mattone molto bello ecco qua quindi ragazze allora i prodotti che mi sono piaciuti più di tutti del calendario sono stati i tre ombretti il dorato che avevamo già visto e sicuramente questi due ombretti mono che sono bellissimi i miei preferiti in assoluto del calendario e poi un blush che avevo trovato all'inizio sicuramente le tinte matt che ho trovato in quest'ultima fase sono quelle che secondo me sono più le più carine e anche portabili o per un evento serale oppure per tutti i giorni avevo trovato anche una tinta sul rosso che non mi era dispiaciato avevo trovato dei burri labbra di vari colori questi per i miei gusti sono un pochino troppo più scuri però avevo trovato precedentemente anche dei nude più rosati e sicuramente la cipria in hd è stata uno tra i prodotti del fiore all'occhiello di questo calendario un illuminante chiaro che avevo trovato nelle ultime quattro caselle anche quello l'avevo gradito molto quindi questo era il calendario dell'avvento con tutte le 24 sorprese ringrazia ancora la profumeria ambrosia per avermi dato questa meraviglia e io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video buon Natale a tutti